Il circolo del golf del Lugolino è la prima società di golf fondata in Italia e si trova attualmente su un campo mozzafiato a pochi chilometri da Firenze. Prendi la sacca di golf, clicca su www.firenzealbergo.it e prenota il pacchetto speciale che ti porterà a Lugolino per una lezione privata con un maestro del PGA. Con questo pacchetto avrai un po' di tutto, arte e natura, aria fresca e divertimenti più mondani. Convinta? Clicca su www.firenzealbergo.it per prenotare.